calcio d'angolo del profe d'arave secondo minuto del secondo tempo questa palla Caruso per la difenda scodellata al centro per Totò Sillufo questa sionissima per il Procavara, azione che continua con Mariano Cordaro al cross il contropiede delle Mussoneli buon gioco al Procavara Caruso, Caruso si viene trattenuto piccolo accenno di risa in campo viene munito il portiere del Mussomeli per eccessive proteste forse perché è stato colpito il compagno portarono dentro in aria di rigore attenzione al pane finito in aria di rigore è buonissimo arbitro è buonissimo se canizzaro altro giocatore del Mussomeli è munito calcio di punizione Favara attenzione al Mussomeli cosa si divore il Mussomeli Procavara 0, Mussomeli 0 decimo minuto della ripresa a calcio di punizione per il Mussomeli attenzione al panipinto attenzione al panipinto buon gioco che viene scritto Understanding Favara ma guarda la fine X5 La protesta del Mussomeli La protesta del Signale ha ravvisato un fuorigioco Attenzione Profavara con Mariano Cortaro Calcio d'angolo Profavara 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 ma sempre un po' di gioco cercate un po' di squadra Grazie a tutti. 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 Proprio il tap in vincente al 47esimo del secondo tempo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. risultato finale di risultato finale di 0-0.